L'autunno è arrivato, tutto quanto ha pitturato, piante, foglie, frutti e fiori, di bellissimi colori. Sulla testa un gran cappello, pioggia il vento nel mantello, tanti grappoli dorati che sono stati vendemmiati. Quando la vera lezione arriva dai più piccoli studenti, in occasione della giornata mondiale dell'albero che si è celebrata oggi, questo è il video che hanno realizzato gli alunni della scuola dell'infanzia Rodari per celebrare l'ambiente, l'albero, il rispetto della natura. Un grande messaggio che arriva non solo ai loro caetani ma soprattutto al mondo dei grandi e a chi troppi alberi sta abbattendo dentro e fuori la città. Il lavoro è contadino, seminando dal mattino il grano turco già maturo, lo ripone di sicuro, mentre cadono le foglie, buona frutta si raccoglie, fichi pere e nocciole.